Benvenuti a Booktopia, il forma di The Watcher Post dedicato ai migliori libri che trovate in libreria. Oggi con noi Roberto Arditti, grazie a essere con noi per il suo libro Rompere l'assedio di Paesi Edizioni. Allora, iniziamo subito dalla copertina che mi ha molto colpito, bello che mi ha colpito non quando ho preso il libro, ma alla fine del libro, perché l'ho trovato un'ottima sintesi, ovvero le tre immagini che vedete del neonato, dell'atomomium, lo storico edificio di Bruxelles mi sembra, e il carro armato sono la sintesi di quello che c'è qui nel libro. Perché si parte da un dato che è molto preoccupante, che riguarda l'Italia, ma non solo, cioè la natalità e la denatalità. Per quanto riguarda l'Italia ovviamente la denatalità, che è molto preoccupante, tu fai un esempio di Monfalcone, la città di Monfalcone, dove il 65% grossomodo sono immigrati e alcune scuole hanno una stragrande maggioranza di immigrati, con tutto ciò che le concerne anche per quanto riguarda la lingua. Questo perché ci sono i cantieri di fincantieri che non riescono a trovare una mano d'opera italiana. E poi fai il paragone invece con quello che sta accadendo in altre parti del mondo, in particolare con l'India, che sta diventando sempre più un gigante, non solo in termini demografici, ma sta diventando anche molto aggressivo. E qui entriamo poi in un altro discorso di cui parleremo dopo sulla spiritualità che riguarda in particolare il governo di Narendra Modi. Allora, siamo un po' verso una caduta dell'Occidente, perché il sottotitolo del libro dice che l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo. Sembra che la sfida demografica non la stia capendo. La sfida demografica è estremamente impegnativa. Va detto che anche i paesi con tassi di crescita della popolazione impressionanti come India e Cina stanno cominciando a conoscere un rallentamento rispetto alle previsioni, perché la crescita del reddito disponibile per le famiglie comporta in ogni angolo del mondo una riduzione del numero dei figli. Però gli effetti concreti della crescita ridotta della popolazione in Africa o in India o in Cina sono talmente di là da venire che nel frattempo l'Europa ha molte possibilità di svegliarsi fra non molto, diciamo due o tre decenni, quando sarà definitivamente invecchiata o addirittura uscita di scena la generazione del boom economico dei nati tra gli anni 50 e gli anni 60, che adesso sono il blocco demografico più importante dell'Europa, ma che si avviano nel giro di due o tre decenni ad avere 90 anni anziché 60. Bene, questa sfida demografica combinata con il fatto che noi oggi vediamo in modo inequivocabile che i flussi migratori non sono solo desideri individuali o familiari di cercare un futuro migliore, ma sono strumenti di guerra e di alterazione degli equilibri di potere a livello internazionale. Il combinato disposto di questi due elementi, la crisi demografica italiana ed europea e i flussi migratori usati come arma puntata verso l'Occidente aprono una questione che nei prossimi anni diventerà molto seria e che richiede strumenti eccezionali rispetto a quelli sostanzialmente ordinari che abbiamo messo in campo sin qui. Uno dei temi che affronti nel libro, che è molto interessante, è quello della classe dirigente che sembra non capire che ci sono alcuni temi, tra cui questo che hai citato, che debbano essere all'ordine del giorno. Diciamo che adesso abbiamo un nuovo governo europeo, ci sono state le elezioni europee, questo è un libro che un po' punta il dito verso l'Europa, ma non pregiudizialmente, perché dice che non sta capendo lo sviluppo che stiamo avendo e questi rischi, da quello demografico, poi vedremo più avanti anche gli altri rischi, ovvero sia un rischio militare ma anche un rischio tecnologico. Allora, l'Europa nelle due emergenze dell'ultima fase storica, quella della pandemia e poi anche della risposta all'invasione russa dell'Ucraina, l'Europa ha dimostrato, pur con mille fatiche e riunioni complicate, l'Europa ha dimostrato una sua capacità di reazione, che sulla pandemia è secondo me stata la reazione più efficace di tutto il mondo, meglio di quella americana, certamente meglio di quella dei paesi orientali, continenti come l'Africa anche in virtù dell'età media della popolazione e anche della temperatura media non hanno avuto lo stesso problema dell'Europa. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina l'Europa con tutte le sue divisioni politiche interne ha però dimostrato di sapersi schierare dalla parte del paese invaso e lo ha fatto. Detto questo, le sfide che l'Europa ha davanti, per esempio sul fronte difesa e sicurezza, sono quelle che non più tardi di 48 ore fa il nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Inglesi ha evidenziato e cioè dice il capo di Stato Maggiore, dobbiamo prepararci a una eventualità di guerra entro tre anni che potrebbe essere scatenata dalla Russia, il che non significa, perché questo è un punto che deve essere colto dalle classi dirigenti, i temi della difesa non sono da sollevare o da porre al centro del tavolo immaginando com'è certa la guerra da combattere, ma siccome ormai le questioni militari sono talmente complesse che non si può improvvisare, bisogna ragionare preventivamente organizzandosi e immaginando lo scenario peggiore, perché se poi lo scenario peggiore arriva o tu ne sei occupato alcuni anni prima o gli risultati sono catastrofici e comunque c'è un tema economico certo e indiscutibile, comunque la si pensi politicamente, culturalmente, da un punto di vista religioso, etnico e in qualunque angolo del mondo una persona si trovi a vivere ed è questo, i costi economici della deterrenza rispetto alle questioni militari, quindi i costi economici necessari per prevenire una guerra sono infinitamente più piccoli dei costi necessari il giorno in cui la guerra la si deve fare davvero, quindi anche brutalmente in termini di denaro, anche sul fronte della guerra meglio prevenire che curare. Decisamente, peraltro da questo punto di vista, quindi qui ritorno alla copertina e al terzo simbolo, ovvero quello del carro armato, inizi parlando del Niger, del rapporto con la Cina. Ora, Niger e Cina ci sembrano due posti lontanissimi, ma anche perché chi lo conosce Niger? Magari si è da Nigeria, ma Niger. Eppure parliamo di un posto che ha molte risorse naturali, sebbene poverissimo, la Cina è entrata pesantemente, citi un accordo sul sfruttamento del petrolio e in cambio forniscono tecnologia per droni. Ora, il nodo qual è? Che i droni lì non si sa se sono civili o militari, perché la distinzione è molto molto labile. Ecco, il protagonismo della Cina è un altro dei temi, lo stiamo vedendo in parte anche con la questione russa-ucraina, visto che la Russia sta cercando sponde con la Cina, con la Corea del Nord e anche con l'Iran. Allora, il tema cinese è sotto gli occhi di tutti. La Cina è una grande nazione, ha una storia millenaria, ha vissuto una fase nel secondo millennio di parziale ridimensionamento del suo ruolo. Oggi è un gigante da ogni punto di vista, economico, demografico, culturale, militare. La Cina ha in acqua la sua terza portaerei. La Cina è a tutti gli effetti oggi l'unica nazione in grado di, diciamo così, pareggiare il conto in termini di influenza geopolitica con quello che è stato il paese più importante della storia dell'ultimo secolo, cioè gli Stati Uniti. Anzi, ci sono alcuni settori dell'attività sulla scena internazionale nei quali Stati Uniti. La Cina è già più avanti degli Stati Uniti, pochi lo sanno, ma tanto per fare un esempio, il numero di navi militari in mare cinese è già superiore al numero di navi militari americane. Se sommiamo le tonnellate di tutte le navi militari, la flotta... delle navi per intenderci. Il numero. La stazza complessiva per tonnellate della marina americana è ancora superiore a quella cinese, ma il numero delle navi in acqua cinesi supera quelle americane. Allora, e il ruolo della marina militare, come potrebbero e come ci hanno insegnato gli inglesi per almeno due secoli, il diciottesimo e il diciannovesimo, la marina militare è uno strumento di enorme rilevanza negli equilibri geopolitici ed è la ragione per la quale la Cina sta investendo in modo clamoroso su questo settore. Allora, noi non dobbiamo guardare la Cina come un nemico, però dobbiamo sapere in modo molto nitido che la Cina ha un'organizzazione statuale che non intende emulare il meccanismo democratico per nessuna ragione al mondo. La classe dirigente cinese è una classe dirigente che ha imparato ormai da decenni, che la carriera si fa all'interno del partito unico, che il ruolo di potere del partito unico, il partito comunista cinese, non può essere messo in discussione e non c'è nessuna ragione al mondo per mettere in discussione questo ruolo di potere assoluto attraverso meccanismi elettorali che la classe dirigente cinese non mette e non metterà mai a disposizione del popolo. Il patto con il popolo è noi governiamo, noi il partito, tanto che le cariche istituzionali contrariamente a quello che accade in Occidente sono un derivato del ruolo del partito, quindi la carriera che bisogna fare per la classe dirigente cinese è nel partito, poi da quello discendo nei ruoli istituzionali, al popolo è riservata una vita serena, condizioni economiche migliorate, possibilità di viaggiare, possibilità di intraprendere attività economica con un grado di libertà importante, avendo chiaro che quando le dimensioni dell'azienda diventano di un certo tipo, c'è una differenza tra un'acciaieria e un negozio di articoli sportivi. Bene, quando vuoi fondare un'acciaieria avrai lo Stato come tuo socio e controllore e chi sgarra da questa regola, per esempio il più famoso imprenditore cinese del ventunesimo secolo, Jack Ma, il fondatore di Alibaba, a un certo punto quando Jack Ma ha iniziato a usare parole fuori luogo, il primo provvedimento è stato quello di ritirargli il passaporto e Jack Ma per quattro anni non è uscito dalla Cina. Il secondo passaggio con una serie di pressioni è stato convincere Jack Ma a lasciare tutte le cariche ufficiali nelle aziende del gruppo che aveva fondato e oggi Jack Ma vive come un ricchissimo signore sostanzialmente ritiratosi dall'attività economica del gruppo da lui fondato. Allora, questa concezione della vita economica, politica, dell'organizzazione della società è altra da quella che abbiamo in Europa e che intendiamo difendere. Quindi noi dobbiamo sapere che la Cina è una grande nazione con la quale da Marco Polo in giù intratteniamo rapporti amiche di grande intensità, ma dobbiamo sapere che la loro idea di organizzazione della società non può fare pace con la nostra, perché sono due modelli non conciliabili e di conseguenza dobbiamo sapere che loro tendono a proporre il loro. E permettimi di citare il tuo libro per chiosare questo intervento, è più facile armarsi che organizzare delle elezioni. Ah, non c'è dubbio. E infatti la gran parte delle nazioni a potere non democratico stanno investendo in armamenti e in tecnologie di controllo della popolazione decine di miliardi di euro all'anno. Un esempio per tutti, la Cina che è la nazione nella quale è stato inventato TikTok, ne vieta l'uso ai cittadini cinesi, per cui il più importante social network di origine non americana della storia dei social che è TikTok è nato in Cina e in Cina non si può usare. Vorrà pure dire qualcosa? Assolutamente. Tu dedichi molto spazio alla nascita di TikTok. Ma passiamo, rimanendo sempre comunque in Cina, a un po' di lungimiranza in questo caso sulla tecnologia, visto che citi Taiwan con tutti i problemi che ci sono tra Taiwan e Cina. Peraltro citavi prima il capo di stato maggiore dell'esercito inglese e lui dice se la Cina attacca Taiwan si scatena un conflitto mondiale, quindi lo mette come rischio. Ma Taiwan è fondamentale per tutto ciò che riguarda i chip, quindi la tecnologia e quindi lo sviluppo. E citi anche il caso delle batterie. Ecco, su questo c'è una differenza molto forte tra la lungimiranza cinese e la mancata lungimiranza, per certi versi, europea. Una mia critica molto forte al percorso di transizione energetica e ecologica che l'Europa ha intrapreso è che è sintetizzabile in due punti. Primo, io non credo che sia mai una buona idea affidarsi ad un'unica tecnologia. Quindi l'idea della transizione, penso alle automobili, e le automobili sono la più efficace e sintesi della crescita industriale, economica e anche sociale dell'Europa del Novecento. Nessun prodotto commerciale, nessun oggetto ha la complessità dell'automobile e si porta dietro una catena, una filiera industriale rilevante come quella dell'automobile. Paragone con gli Stati Uniti, l'auto è stato il motore della crescita degli Stati Uniti. Nel Novecento, ma d'altronde per farla semplice, guardando l'Italia pensiamo a che cosa è stata la Fiat per la crescita economica italiana. Bene, la transizione avviata verso l'elettrico non è di per sé negativa, ma ci consente di fare due critiche molto precise. Primo, non c'è mai motivo di affidarsi ad un'unica tecnologia, perché questo induce ad esempio l'industria dell'automobile a non sviluppare ricerca sulle altre possibilità di motorizzazione. Meglio quindi una soluzione diciamo di concorrenza, dove è il mercato a fare secondo, un passaggio completo all'elettrico, senza avere fin in fondo costruito prima un'industria europea che crea la gran parte dei materiali, a cominciare dalle batterie, che servono per quelle nuove automobili di nuova generazione, è un errore di politica industriale clamoroso, cioè il passaggio all'elettrico dell'Europa deve avvenire perché ha il suo valore in termini di tutela dell'ambiente, ma prima si deve costruire un'industria della componentistica europea che serve a completare quelle automobili. La Volkswagen, la Fiat, la Renault, la Citroen, la Peugeot, la Audi sono nate in Europa con l'intero processo che vuol dire valore aggiunto fatto in Europa e perdere pezzi di questo è non solo economicamente svantaggioso, ma soprattutto genera una perdita di ruolo diciamo così geopolitico che non deve essere consentita, quindi io spero che l'Europa rallenti questo percorso di transizione all'elettrico implementando dietro e prima un'industria in grado di sostenere. Vedo che in Italia in materia di questi giorni la mappatura che è stata fatta dal governo e dalle agenzie dedicate sui siti minerari da riaprire in Italia per riattivare un meccanismo di estrezione di materiali, le cosiddette terre rare, che sono fondamentali sia per l'industria dei microchip che per quella delle batterie, perché anche da questo punto di vista non è vero che in Italia non ci sono risorse naturali, è che abbiamo smesso da alcuni decenni di volerle estrarre affidandoci a produzioni straniere, salvo poi scoprire che questo significa, guardiamo al tema del gas naturale come è successo nel 2022, salvo poi scoprire improvvisamente che questa dipendenza dall'estero totale a un certo punto diventa un problema. Tanto più quando si tratta di dipendenza da stati autocratici. Ma non c'è dubbio, bene le importazioni, ma le importazioni devono sempre essere affiancate ove possibile, in tutti i casi in cui è possibile, da una capacità diciamo europea e nazionale di fare affrontare le necessità. Uno dei grandi punti di forza, insieme a molto di debolezza degli Stati Uniti d'America oggi, è che gli Stati Uniti sono esportatori di gas e petrolio, cioè ne estraggono all'interno del loro territorio, in particolare con l'aiuto dell'Alaska che è decisiva da questo punto di vista, in quantità sufficiente a coprire i bisogni nazionali. Questo rende gli americani, diciamo mette gli americani in una posizione che in questo momento l'Europa non ha, tant'è vero che noi italiani abbiamo dovuto correre a sostituire il gas russo con quello algerino, che però è un'altra dipendenza e non è il modello che bisogna perseguire negli anni a venire. Passiamo dalla Cina all'India, tu fai menzione di una dimensione spirituale molto forte che ha avuto una rendra modica e ricordiamo è stata eletta per la seconda volta, se non ricordo male, la terza è stata eletta recentemente, anche se è stato un po' ridimensionato, è stato confermato alla guida e loro hanno un tema spirituale, religioso, confessionale molto molto alto, visto che hanno un'azione di repressione molto forte nei confronti delle comunità islamiche e parallelamente una forte, meno forte perché meno rappresentativa, anche delle comunità cristiane. Questo è un tema che potrebbe tornare fuori anche perché al 2050 è previsto una popolazione di un miliardo e mezzo grossomodo da parte degli indiani. Ora i musulmani in India sono attualmente circa 170-180 milioni e va detto con un tasso di crescita demografica della componente musulmana della popolazione indiana più alto di quella della quota hindu. Gli hindu sono però oltre un miliardo. Bene, Modi, in qualche modo rompendo la tradizione di Gandhi, se vogliamo essere sinceri, cioè in India c'è posto per tutti, Modi ha… Infatti, scusami, ti interrompo, un tuo paragrafo si intitola «C'era una volta il Mahatma». Esatto, perché l'India di oggi è un paese nel quale le autorità pubbliche hanno chiarito in ripetuti passaggi che la comunità di riferimento è quella hindu. Tant'è vero che Modi ha aperto la sua campagna elettorale inaugurando un tempio maestoso, pagato con i fondi pubblici, che però è stato costruito… Sulla moschea, no? Su uno spazio dove una moschea fu rasa al suolo dagli hindu, facendo 2000 morti musulmani nel giorno della moschea rasa al suolo. Bene, questa dimensione innanzitutto della comunità hindu è molto presente nella strategia politica di Modi, che è una via di mezzo tra un capo politico ed istituzionale e un leader religioso spirituale. E lo si vede benissimo nella cerimonia di inaugurazione di questo tempio nuovo, cerimonia alla quale Modi non è che assiste come noi immaginiamo un capo istituzionale… Ah no, certo, partecipa in senso di partecipazione profonda perché fa una dieta di una settimana dedicata con solo nocicocco dormendo su una stuola, così come prevede il rituale del luogo, del… E anche nella cerimonia, che dura sette ore, si può vedere su YouTube integrale, anche nella cerimonia Modi di fatto concelebra. Quindi ci sta dicendo, quello che stanno facendo moltissimi leader in giro per il mondo, la dimensione spirituale sta diventando sempre più centrale nelle campagne elettorali. E lo vedi anche nella decisione di Donald Trump a poche ore dall'attentato che lo ha quasi ucciso, o meglio, non lo ha ucciso per uno o due centimetri, perché di questo parliamo. Anche meno. Che cosa ha detto Trump nel discorso che ha fatto alla Convenzione Repubblicana pochissimi giorni dopo l'attentato? Ha detto Dio era accanto a me. Espressione che non deve fare sorridere i, diciamo, laici, deve essere compresa nella sua essenza profonda. La dimensione spirituale o religiosa sta sempre di più tornando ad accompagnare i leader politici sia nel mondo democratico che negli altri mondi. Vale per MBS, Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, ma vale persino, vale per il rapporto… È uno stalo confessionale. Sì, ma vale per Vladimir Putin che da ateo agente del KGB sovietico, oggi ha nel patriarca della chiesa ortodossa Kirill, il nome tutelare, all'autamente remunerato dal governo russo, ha il nome tutelare delle sue missioni, persino della guerra in Ucraina, che non a caso il patriarca Kirill ha ripetutamente giustificato, dicendola una guerra giusta, quasi dicendo una guerra santa, nonostante il fatto che il patriarcato ortodosso di Kiev è, diciamo, non il più antico, ma certamente il più autorevole dei patriarcati ortodossi dell'ex Unione Sovietica o dell'Europa dell'Est. Quindi Kirill ha scelto di stare accanto a Putin nonostante il patriarca di Kiev sia invece accanto a Zelensky. Questo per dire che la dimensione spirituale sta diventando, o forse ridiventando, decisiva anche, diciamo, come strumento di affiancamento al potere costituito. Persino il presidente cinese Xi, che comunque ha ancora una impostazione tutta laica del comunismo cinese, nelle sue ultime dichiarazioni, negli ultimissimi anni, sta recuperando una dimensione spirituale cinese, nella versione che non c'era nella Cina fino a pochi anni fa. Questo è uno degli elementi più interessanti di quello che abbiamo davanti. Modi ne è un interprete perfetto. Si, Parvalicet, citiamo anche Salvini in Italia, giusto per non farci mancare nulla. È vero. Allora, ricorre una data costantemente nel libro, che è il 2050. A me ha colpito questo fatto, visto come una sorta di spartiacque, sembra una data lontana, forse vicina, non so, ma ci si pensa al 2050? Il mondo europeo e anche la classe dirigente occidentale hanno una tale frenesia da campagne elettorali, per cui in realtà fanno tutti, soprattutto la classe dirigente, tutti fa molta fatica a guardare avanti. Invece noi dobbiamo guardarci con attenzione a questo 2050, perché tornando al tema del cluster demografico, del boom economico, nel 2050 i nati nel 1950 avranno 100 anni e non saranno tutti vivi, i nati nel 60 ne avranno 90 e i nati nel 70 avranno 80 anni. Quindi noi avremo un altro mondo, un altro mondo completamente, soprattutto nei nostri paesi europei, un altro mondo che è in larga misura da costruire. Non è solo un tema di welfare, che pure sarà molto rilevante da riassestare, ma è proprio un tema anche di composizione demografica, etnico-sociale di nazioni come l'Europa, tema al quale bisogna pensare ora. C'è un provvedimento interessante della vituperata Ungheria di Orban, che io credo debba essere oggetto di riflessione. In Ungheria le donne che arrivano al quarto figlio, quarto, dal quarto figlio, nato il quarto figlio, quella donna non pagherà mai più tasse a vita. Non mi interessa la scelta esplicita di questo o quel governo, mi interessa che questa decisione del governo ungherese è un campanello di allarme in positivo, cioè ci dice in che direzione dovremmo andare. Ora in Ungheria questo vale al quarto figlio, tra un po' questo provvedimento comincerà a valere per il terzo e forse a un certo punto anche per il secondo, perché è evidente che bisogna investire in quella direzione, ma non col bonus di 1000 Euro, che alla fine non sposta più di tanti termini di questione neanche in una famiglia con ridimensionate disponibilità economiche. Dovremmo investire in quella dimensione con provvedimenti clamorosi, tipo fai un figlio non paghi le tasse per cinque anni, ne fai due non le paghi mai più, perché se non mettiamo in campo provvedimenti clamorosi, non di ordinare amministrazione, da questo problema non ne usciamo. In conclusione, questo libro ottimista o pessimista? Io amo il bicchiere mezzo pieno, però non c'è peggior ottimista di natura di chi cerca di fare l'ottimista senza guardare le cose come sono. Quindi, proprio perché io amo l'esercizio dell'ottimismo come filosofia di vita, dico che per preservarlo bisogna sapere come stanno le cose. Grazie, grazie Roberto Arditti per essere stato con noi con il suo libro Rompere l'assedio Paesi Edizioni. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Booktopia, sempre su The Watcher Post.